benvenuti a curia news edizione emergenza coronavirus e veniamo alla notizia dell'anno roma 27 marzo 2020 la madonna appare durante la benedizione del papa a san pietro scacco matto per tutti gli atei come la mettete ora come la vogliamo mettere ma guardiamo le immagini giunte alla nostra redazione no 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 questa cambiala cambiala questa no questa è venuta male ma nemmeno degli udimenti di photoshop dai fai una cosa mettivella della nuvola che è meglio eccola qua vedete questa è la prova inconfutabile ragazzi come fate a dire che si vede bisogna per vederla bisogna piegare un po' la testa di lato e indietro a schiacciare e occludere la pena che porta il sangue al cervello ecco dopo circa 5-6 secondi di mancata ossigenazione delle cellule cerebrali poco prima di svenire si riesce a vedere tranquilli provateci vabbè però dai lumino col cappello sulla destra si vede no io lo vedo via l'episodio che qualche ateaccio ha il coraggio di chiamare pareidolia accadde anche qualche anno fa a jesolo ovvero nell'ottobre del 2011 dove all'incontro dei fedeli di meggiugori fu scattata questa foto la donna di meggiugori apparve ai fedeli dicendo scusate per la bosnia la seconda o la terza a sinistra meno confusa invece è apparsa in piazza san pietro dove ai fedeli ha voluto indicare lei la via tra i fedeli però non è mancato chi ha visto nell'apparizione della madonna un invito su come passare questi giorni di quarantena chi invece ha visto un invito a festeggiare il compleanno perché il tempo vola o chi ha visto un invito ecologico a rispettare i mari e ricongiungersi con essi facendo surf io ad esempio ci ho visto un omino muffo vada ganza tanto è così ognuno ci vede quello che vuole come il messaggio dato dal omino sotto la nuvola dai il messaggio però era bello ma ti rendi conto chi l'ha detto cioè non te lo vorrai mica scordare vabbè che vuol dire cioè però devi guardare il messaggio poi se lui era come se lui era cioè voglio direi ma la coerenza il messaggio è il perché una persona fa il messaggio ma la coerenza